Abbiamo letto adesso che il consiglio di amministrazione di Telt ha approvato all'unanimità i bandi per quello che riguarda la Tava che è una delle tante opere pubbliche, capisco l'interesse giornalistico, però ce ne sono 300 di cantieri da riaprire in Italia porti, aeroporti, ferrovie, metanodotti e quindi contiamo che nell'arco di qualche giorno, non di qualche settimana nell'arco di qualche giorno il governo e il consiglio dei ministri porti in approvazione un decreto urgente che sblocca cantieri e sblocca appalti